Sindaco, il Comune ha lavoro su vari fronti in Premies Piazza San Giustino? Sì, siamo, come dice lei, impegnati in vari fronti a livello di ristrutturazione di strade, di piazze e il completamento appunto anche dei lavori di Piazza San Giustino che in queste ultime settimane ha avuto un impulso di velocizzazione anche sotto la nostra richiesta e sollecitazioni per cui insomma adesso con la fine dell'inverno questi lavori avranno già di per sé un più veloce impulso lunedì inizieremo i lavori a Piazza Umberto che si collegheranno ovviamente con quelli iniziati e poi interrotti di via Armellini, Largo Cremonesi e Largo Moricorvo e quindi stiamo andando insomma vogliamo andare veloci perché quest'anno, ecco il 2023, sia un anno per Chieti di belle novità tra l'altro inizieremo a brevissimo anche la ristrutturazione del campetto della villa comunale e anche la ristrutturazione e la rimessa a nuovo anche della villa comunale quindi tante belle cose in pentola